Lui è Pietro e questa è la sua casa, una delle tante montagne incontaminate e remote d'Europa. Pietro produce formaggio che grazie all'incontaminato ambiente di montagna e ai metodi di produzione tradizionali è unico e delizioso. Il suo profumo intenso ricorda Pietro suo nonno, il quale gli ha trasmesso la tradizione casearia. Ma non tutto è semplice per Pietro e la produzione del suo formaggio. La ricerca di nuovi mercati richiede tempo e denaro. Ottenere materiali di cui Pietro necessita può essere difficile e costoso, così come le impervie strade di montagna possono rendere difficile il trasporto. Alcuni commercianti non accettano il formaggio, perché Pietro può solamente distribuire piccole quantità ad intervalli stagionali. Ed alcuni clienti, non essendo esperti di formaggio, non lo provano. Anche se chiunque lo abbia mai provato lo ha trovato irresistibile. Tutto sommato la situazione è abbastanza difficile, ma come diceva il nonno di Pietro, quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare. Pietro collabora con Giovanni e Sara, che producono formaggio simile in una valle vicina. Lavorando insieme, fondano una cooperativa di produttori, progettano un marchio comune per i loro formaggi. Imballaggio, etichettatura, promozione e trasporto vengono fatti insieme. E poiché insieme possono produrre maggiori quantità di formaggio, riescono a contrattare più efficacemente con i grandi distributori. Pur continuando a vendere formaggio nell'azienda agricola, la vendita avviene anche nei supermercati, nei negozi specializzati, nei mercati degli agricoltori e attraverso una nuova piattaforma internet. Con le etichette giuste, dépliants e manifesti hanno modificato la percezione che i consumatori hanno del loro formaggio. Ora, i loro clienti lo adorano. Conoscono bene il tradizionale e attento processo di produzione, fondamentale per l'economia locale. La gente comincia ad associare il delizioso sapore del formaggio con il paesaggio e la cultura locale. Nel corso del tempo, il formaggio prodotto da Pietro diventa tanto famoso quanto le montagne da cui proviene. Anche l'ufficio turistico locale lo utilizza per promuovere la regione. E funziona! Alberghi e ristoranti locali creano offerte speciali per servire il formaggio. I visitatori provengono da ogni parte, invogliati dagli eventi di degustazione del famoso formaggio di Giovanni. Altri trascorrono una giornata con le dimostrazioni di Sara nella sua nuova azienda agricola. Ora, gli agricoltori vogliono creare un sentiero tracking sul formaggio di montagna, con tanto di alloggi in azienda. Per realizzare il progetto cercheranno di ottenere finanziamenti europei. E già Pietro, Sara e Giovanni hanno un'idea su come utilizzare un marchio europeo per i loro prodotti di montagna. E così le cose vanno molto meglio per Pietro e il suo buonissimo formaggio. In realtà, le cose stanno andando così bene che ha dovuto assumere più lavoratori per stare al passo con le richieste. E ancora meglio, la figlia di Pietro, al termine degli studi, spera di portare avanti l'azienda di suo padre. La storia di Pietro non è unica, ma simile a quella di altri produttori in altre regioni. Sì, ci sono sfide da superare, così come lavoro duro ed un'attenta pianificazione. Ma il potenziale dei prodotti di montagna è davvero enorme.